Spero che questa è la posizione universale di Milano, in cui le Nazioni Unite sono state protagoniste come mai prima, sia per tutti il segno che una strada nuova può essere condivisa. Scelte unilaterali non portano al progresso e alla pace. Il diritto internazionale invece è una risorsa da custodire e implementare. Questa risorsa aiuterà anche le nuove idee e i nuovi protagonisti che si cimenteranno per realizzare entro il 2030 l'obiettivo di uno sviluppo equo, solidale e sostenibile. Grazie.